e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere qui questa edizione speciale del dvd di batman the dark knight edizione con la maschera questo se non mi sbaglio non dovrebbe essere italiano ma in inglese il nato è così perché la questa confezione non è uscito in italia come potete vedere un po ridotta perché l'ho presa un venditore privato su ebay andiamo ad aprire e dentro abbiamo una maschera e questo libretto qui la maschera di batman è questa qui molto ben fatta con dietro il luogo e cavaliere si apre da qui e dentro ci stanno i dischi edizione speciale ovviamente disco 1 bonus e disco 2 film ora metto all'interno e ci vediamo tra poco ok questa era l'edizione speciale di the dark knight 2disk di food delimited edition e niente mettetevi piace commentate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo un prossimo video ciao a tutti